Speravo, è una parolona, ma non sognavo neanche di riuscire più a prendere, quindi è veramente stato un anno perfetto. Senti, l'ho chiesto prima al presidente Barelli, è esagerato parlare di te come la più forte di l'Utriata? Oddio, dovete dirlo voi, nel senso risultati alla mano, ditemelo voi. Ma chi è che ha fatto per così tanti anni la differenza? In che senso? Nel 2004, ricordavo giustamente Barelli, hai vinto una medaglia d'argento, nel 2017 una medaglia d'oro. Sì, sì, è di sicuro un mondiale con tante altre medaglie in mezzo, quindi insomma, no, no, io sono contentissima della mia carriera, ci mancherebbe, però da qui a mettermi a paragone con tanti altri grandi atleti, insomma, è compito dei giornalisti fare questo.